Pepe ha registrato un 375 mila PER in 21 giorni cambiando la vita di tantissime persone e questo ha dimostrato ancora una volta che grazie alle meme coin come è successo in passato con Doge e Shiba Inu c'è la possibilità di cambiare vita sfruttando questo trend e quindi per voi ragazzi una guida nel quale vi insegnerò a capire come cercare trovare e acquistare queste meme coin per cambiare la vostra vita e quindi in questo video vedremo tre cose fondamentali la prima come cercare e trovare le migliori meme coin con rendimenti polli altre due cose importantissime come trovare la migliore strategia di acquisto di queste meme coin e cosa fondamentale di cui nessuno parla la migliore strategia di vendita quindi è importante ragazzi fare exit quando si acquistano queste meme meme coin e mettere i soldi in tasca ciao amico criptomani benvenuto in questo nuovo video come sempre se non mi conoscevo sono Salvatore prima di iniziare like al video per supportarmi fammi sapere sempre che cosa ne pensi nei commenti se stai partecipando a questa meme coin trend questa meme coin season e ovviamente prima di iniziare iscriviti al canale lascia like al video e adesso andiamo prima cosa fondamentale quando acquisti una meme coin la acquisti solo ed esclusivamente con il pensiero che questa in futuro possa valere molto ma molto di più e quindi ovviamente senza andare a considerare i fondamentali perché non ne ha e questa è la principale differenza rispetto a quando magari vai a acquistare una determinata cripto valuta quindi l'acquisti solo ed esclusivamente con l'unico pensiero che possa valere molto di più possa fare appunto questo movimento e che tu appunto possa venderla a qualcun altro che arriverà in ritardo quindi acquistarla prima di qualcun altro c'è una teoria in economia che rispetta perfettamente quello che succede anche con le meme coin che è quella del castello in aria ovvero gli investitori acquistano costruendo appunto il famoso castello in aria che ragazzi sarebbe questo soltanto pensando a quello che potrebbe essere il valore futuro di un determinato asset in questo caso delle meme coin piuttosto che pensando al valore intrinseco e questo è quello diciamo che sviluppa sempre ragazzi l'hype la fomo iva i cosiddetti castelli in aria proprio perché appunto il valore di un determinato asset viene scambiato soltanto in base ad una considerazione di quello che potrebbe essere il valore futuro e non su quello che è effettivamente il valore perché se dobbiamo prendere in considerazione le meme coin sappiamo che di valore non ne hanno ma che cosa succede che quando c'è stato appunto l'annuncio del probabile listing o meglio del listing su binance ragazzi è praticamente poi esplosa definitivamente e quindi le persone hanno iniziato ad acquistarla proprio sulla base di quello ed è lì che si è formato il cosiddetto castello in aria poi c'è stato ragazzi il movimento che come tutti sappiamo è stato questo e poi ovviamente grande ritracciamento perché questa fomo qua è scoppiata proprio da quell'annuncio e quindi le persone acquistavano solo ed esclusivamente per quello creando il cosiddetto castello in aria e quindi cosa bisogna fare per vincere bisogna semplicemente battere la concorrenza entrare prima degli altri e che cosa si fa ragazzi per entrare prima degli altri bisogna scommettere bisogna per forza parlare di scommessa quando si parla di meme coin perché ragazzi entrare in queste zone significava veramente scommettere e poi ovviamente la di conseguenza la scommessa è stata vinta e ci sono dei metodi ragazzi per scommettere su queste meme coin che appunto è quello che vedremo quindi come trovare e cercare le migliori meme coin che possono avere rendimenti folli proprio come è successo con pepe prima cosa da fare accertarsi che ci siano meme coin season un meme coin trend in corso questo è quello che succede di solito ragazzi ovvero con un leader di sol in passato c'è stato doge poi c'è stato shiba in questo caso è stato pepe e di conseguenza in pochissimi giorni tutte quelle che sono le meme coin che escono hanno dei rendimenti folli infatti ragazzi qualsiasi andate a vedere auto il solito pump and dump vedete ragazzi questo è successo e sta succedendo con tutte le meme coin quindi la prima cosa da fare è accertarsi che ci sia questo trend perché investire meme coin quando ragazzi non c'è un trend in corso ovviamente mi renderà il tutto molto ma molto più difficile adesso che sappiamo che c'è un trend ragazzi possiamo sfruttare questo sito che si chiama dextool che personalmente utilizzo tantissimo per trovare quelle che sono le meme coin che sono in trend in questo periodo ha varie funzioni andrei ovviamente sulla blog scende di rimo ragazzi perché lì che nascono sempre le meme coin con più funzione e qui in alto potete trovare quelle che sono in trend quelle che sono più scambiate la versione premium ragazzi vi darebbe diritto a vedere molto più cripto e sarebbe una cosa molto interessante però per avere la versione premium dovesse avere il token ad ex all'interno del vostro volete dovreste averne minimo mille e poi anche centomila per avere anche queste qua quattro dicesima quattordicesima e quindicesima che per molti per chi ce la ragazzi è super interessante perché c'è la possibilità di vedere molte più cripto che sono in trend un'altra funzione super interessante che vale solo su adenium è il big swap explorer qui potete vedere ragazzi gli acquisti e le vende pesanti che ci sono su determinate cripto valute vedete qui ad esempio si esce un buy pesante di 5,49 ethereum qui possiamo vedere un sell di 23 ethereum un buy di 24 ethereum quindi solo degli acquisti pesanti e punto c'è la possibilità di vedere determinate cripto e guardate qua ragazzi adesso nemmeno a farlo apposta esce un pump incredibile su questa cripto valuta che è uscita da nelmeno qualche ora e ovviamente questo sito può aiutarci appunto a fare proprio questo a trovare quelle cripto quelle meme coin che possono essere in in tendenza sia nella sezione big swap per trovare gli acquisti pesanti e nella sezione per explorer per trovare tutte quelle che sono più scambiate al momento su uniswap adesso che abbiamo trovato la nostra meme coin che sia appunto in hype ragazzi cosa molto importante eviterei di acquistare quelle che non sono in hype andiamo ad analizzare ovviamente piuttosto che andare a comprarla così ragazzi ad occhi chiusi una volta trovata assolutamente no andiamo ad analizzare poche semplici cose sicuramente una delle cose più importanti sono i vari social in questo caso non ci sono quindi già non mi fiderei tantissimo andrei ad analizzare i vari social perché le meme che hanno le community più forti e più numerose ragazzi sono sicuramente quelle che troveranno maggior successo altra cosa fondamentale più è divertente una meme coin più ha tra virgolette più è degeni più è folle più è probabile che questa abbia successo ed è quello appunto che è successo proprio con un pepe una meme nata praticamente senza nessuno scopo anche sulla un principale possiamo andare a leggere che praticamente adesso una bella faccio vedere che praticamente non ha nessun senso di esistere che è nata senza nessuno scopo e ovviamente questo ha reso il tutto ancora più ha fatto i rapi ma ancora più successo infatti una meme coin praticamente senza valore intrinseco senza fondamentali nata solo ed esclusivamente a scopo di divertimento e quindi ragazzi questo ha reso grandissima la community intorno a pepe motivo per cui poi è definitivamente scoppiata e quindi cercare appunto meme coin senza un senso che possano essere quanto più divertenti possibili con forti community è sicuramente più importante di quello che vedremo più avanti ovvero ad esempio rispetto al team di una meme coin approfitto per dirvi ragazzi che bitgett è l'exchange che personalmente utilizzo sconto commissioni del 15 per cento se utilizzate il mio referral link non avete bisogno del kyc e cosa fondamentale bitgett ragazzi lista tantissime meme coin quindi se state guardando la mia guida e guarderete tutti i video di questa guida riguardo le meme coin potrete utilizzare bitgett per andare a vendere poi le vostre meme coin che avrete probabilmente acquistato in anticipo grazie alla guida e potete infine utilizzare se state guardando la seconda parte potete utilizzare gli exchange grandi come bitgett binance eccetera come exit finale proprio come è successo con pepe quindi avere come obiettivo questi listing come exit finale del vostro investimento se invece siete ancora la prima parte del video della guida nel quale state cercando e trovando le migliori meme coin allora vi consiglio di andare a vedere anche la seconda parte così da avere tutte le informazioni al completo infatti in molti vi diranno analizzate il team se un team d'occasato se un team che ha già fatto altri sviluppi altri progetti altre cose personalmente invece ragazzi io non sono di questa idea personalmente nella maggior parte dei casi non guardo nemmeno chi è il team non guardo almeno se c'è un team dietro una meme coin perché non è quello il metodo di acquisto di scommessa su una meme coin personalmente la ritengo una cosa quasi senza importanza andare ad analizzare il team proprio perché nell'esempio di pepe nell'esempio anche di shiba ragazzi il team che c'era dietro non è praticamente stato importante per niente la cosa più importante è stata la community è stata soprattutto un'altra cosa più importante l'esplosione sui social quindi questa è sicuramente una cosa da controllare grazie a lunar crash ragazzi che è un sito anche in questo caso è possibile fare un abbonamento per avere molte più informazioni sul quale è possibile vedere ovviamente le cripto allute ragazzi che sono in trend in trend sui vari social soprattutto su twitter che sicuramente è tra quelli più importanti e questo ovviamente ragazzi pepe è esploso praticamente su twitter lo sappiamo bene e ovviamente tutte le vedete meme coin ragazzi che esplodono su twitter tendenzialmente vanno in trend vedete qua ragazzi fk pepe sono tutte quelle meme coin e questo è un fattore importante perché quando vanno in trend su twitter e sui vari social e vengono appunto prese da tantissime persone e la community si allarga quello è un fattore secondo me molto ma molto più importante e poi successivamente dopo aver analizzato il social quindi se la cripto in trend avere utilizzato lunar crash secondo me è molto molto interessante per valutare questa tipologia di cose piuttosto che andare a valutare il team ragazzi valuterei il contratto infatti nel caso di pepe è stata è stato rinunciato all'ownership del contratto quindi il team ha rinunciato a fare modifiche praticamente al contratto i token lp della liquidità sono stati bruciati e questo ha dato fiducia appunto perché non c'è possibilità di andare a prendere tutta quella che era la liquidità e queste cose ragazzi possono essere analizzate sia grazie a dextool e sia grazie a token sniffer nel quale prendete l'address del contratto lo incollate in questo caso di pepe vi faccio vedere se prendete il token andate su token sniffer incollate e vi usciranno tutte le informazioni più importanti in modo tale ragazzi da escludere quello che possa essere uno scam un rug pull certo ciò non vuol dire che se ovviamente ci saranno queste cose ragazzi allora a quel punto non ci sarà possibilità di scamo ma comunque sarà ridotta notevolmente perché appunto la liquidità non c'è certezza che venga presa non che non sia non ipotesi ma questo potete vederlo già anche qua su dextool quindi tante 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 altre informazioni e queste sono molto molto importanti vedete l'ownership del contratto qua si vede che è stata rinunciata ragazzi se trovate questo addres 0x tutti 0 significa che l'ownership del contratto non c'è più e quindi queste cose secondo me sono molto molto più importanti per una meme coin rispetto a proprio al team e infine un'altra cosa interessante che potete fare andare a vedere la mappa dei portafogli che detengono quelle meme coin qui vediamo quelle più importanti in questo caso pepe ragazzi vedete c'è una mappa vera e propria mappa che ci dà il senso di quelli che sono vedete i portafogli più grandi che detengono guardate qua pepe in questo caso adesso pepe qui è di tre ore ragazzi possiamo vedere guardiamo qua che succede andare a vedere praticamente possiamo andare a mettere tutto quello che ci pare show contract ecco qui possiamo andare a vedere praticamente balance questi sono tutto quello che avviene praticamente su balance e adesso se andiamo a prendere ad esempio una meme coin non so mong ok vi faccio vedere la differenza copiamo incolliamo qui ovviamente ci uscirà la cripto clicchiamo e possiamo andare a vedere quelli che sono i wallet vedete ragazzi qua possiamo vedere avere già una un'idea di quelli che sono i wallet più grandi che detengono questa cripto valuta una vera e propria mappa aggiornata due due giorni fa ovviamente non possiamo dire tutti i risultati e poi ragazzi vedete qua possiamo andare a mostrare tutti gli address più grandi 7 per cento qui avere già un'idea di quegli address che detengono gran parte delle cripto valute questa può essere molto interessante per il semplice fatto ragazzi vedete qua c'è anche un collegamento tra i vari address quindi in questo in questo da questo adesso che si c'è un collegamento a tanti tanti altre 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 se questa è una cosa super interessante perché ci fa capire che magari gli adesso questi qua collegati piuttosto che essere singoli address sono address collegati quindi questa potrebbe essere una grandissima whale altra cosa fondamentale quando scoppia diciamo una meme con il season ragazzi ci sono tante altre meme che esplodono in questo caso che vanno a seguire quello che leader che è stato pepe e molto interessante potrebbe essere piuttosto di andare ad acquistare tutte le altre meme che vanno a seguire quello che leader andare direttamente ad acquistare quello che leader che sicuramente la maggior parte dei casi performa meglio quello il rendimento che ha dovuto pepe sicuramente non l'hanno avuto le altre meme coin anche se comunque hanno performato bene ad esempio bob ce ne sono tante altre snake turbo eccetera eccetera ragazzi ce ne sono state tantissime performano tutte benissimo ma ovviamente non performano bene quanto il leader poi c'è una diversificazione che può essere fatta che vedremo più avanti in questo video ovvero nella migliore strategia di acquisto questo per il semplice fatto che tutta la liquidità ragazzi che poi si accumula in tutte le altre meme alla fine poi confluisce in quella che è il leader quindi per cui il motivo principale per cui forse investire nel leader è meglio forse non investire ma acquistare i leader è meglio oppure sfruttare tutte le altre pecore del greggio e proprio per andare poi ad accumulare liquidità su quello che è il leader altra cosa super fondamentale seguire gli smart money e ragazzi questo è possibile farlo innanzitutto grazie a lucon chain che ci dà tantissimi tutti interessanti io vi consiglio di andarlo a seguire ci indica quali sono quelle will più interessanti o meglio scusate quegli smart money address più interessanti perché questi ci possono dare delle grandissime indicazioni address che possono essere eseguiti proprio su the bank che appunto ci dà un'interfaccia molto più facile da vedere rispetto a header scan e ragazzi dove possiamo trovare questi questi address che sono praticamente gli smart money quelli più intelligenti possiamo dire che cosa vanno a vendere e che cosa vanno acquistare così da poter anticipare quelli che possono essere le mme coni che esploderanno ovviamente seguire questi address appunto ci può dare un grandissimo vantaggio perché se notiamo che un address va acquistare una determinata mme coin possiamo andare a fare un nostro studio su quella mme coni e quindi magari essere avvantaggiati e possiamo tra piccolette ragazzi su the bank questo sito appunto come andare a seguire un determinato address che per noi risulta interessante così da poterlo monitorare e qui andare a vedere appunto che cosa vende e che cosa acquista vedete ragazzi qua venduto sponge eccetera eccetera e sta vendendo pepe quindi vedete un'indicazione sta vendendo tantissimi pepe tantissimi voyac quindi sta iniziando ragazzi ad accumulare usdt e questa potrebbe essere una grandissima indicazione mentre acquistato questo nian e quindi vedete già sono delle informazioni molto molto importanti e ovviamente come possiamo anche trovare altri address interessanti andando a vedere gli early adapter di un determinata mme quindi i primi che hanno iniziato ad acquistare pepe ma proprio ad acquistare ragazzi bisogna andare un po dietro nello storico iniziamo a vedere quegli address iniziamo ovviamente a seguirli su the bank perché potrò possono essere appunto degli address molto interessanti fammi sapere subito nei commenti se vuoi altri video della genere lascia il video per supportarmi come sempre iscriviti al canale io ti aspetto al prossimo video